Forti preoccupazioni sono state espresse dai sindacati confederali di Cremona per l'emergenza sociale in atto per la quale non sono state messe in conto azioni né stanziamenti neanche per il prossimo periodo. Un silenzio e un'assenza da parte della Giunta nonostante le ripetute sollecitazioni che trova conferma nel bilancio previsionale del 2014. Il rischio è che di fronte ad un'emergenza sociale crescente rispetto ad un ceto medio sempre più fragile e bisognoso di supporto l'amministrazione intraprenda percorsi di isolamento e abbandono delle fasce più fragili. Di nuovo l'appello dei sindacati contro un atteggiamento che potrebbe dimostrarsi distruttivo anche nell'azione politica della prossima amministrazione che si prenderà in carico la città e le sue problematiche di qualunque colore politico. Cremona è tra le città più povere della Lombardia e i posti di lavoro comunque si continuano a perdere. La città di Cremona quindi ha bisogno di interventi per poter aiutare socialmente la comunità. Il bilancio dell'amministrazione comunale non è una somma di numeri, il bilancio è un documento politico dove l'amministrazione indica quali sono le sue scelte prioritarie e questo è quello che noi abbiamo chiesto al sindaco e per tutta risposta l'assessore del bilancio ci ha detto a febbraio che le scelte verranno individuate non dalla giunta comunale bensì dalla maggioranza che di questo consiglio di questa amministrazione. Da quella affermazione dei primi di febbraio noi non abbiamo più avuto nessun tipo di risposta. Abbiamo avviato un documento, abbiamo indicato quali fossero le nostre priorità e su quello volevamo confrontarci. A questo punto non avendo risposta il sindacato appunto vuole denunciare la preoccupazione che c'è perché non vorremmo che in questa fase elettorale si lasciasse tutto com'è e poi chiunque prendesse in mano l'amministrazione a luglio trovasse dei servizi non programmati o comunque la mancanza di disponibilità di risorse. I sindacati tornano a cercare un confronto affinché la giunta riconfermi le risorse dello scorso anno per sostenere le fragilità sociali anche nel corso del 2014 e chiedono a gran voce che vengano garantiti i servizi a domanda individuale. Un appello poi alla responsabilità della propria presenza e azione da parte del mondo associazionistico locale.